Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico è al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Infipili possibili disagi per lavori all'altezza del turbone tra Montelupo e Ginestra nelle due direzioni. Ultima pagina, in conseguenza dell'emergenza sanitaria coronavirus, raccomandiamo di limitare ogni tipo di spostamento non necessario. In vigore inoltre l'ordinanza dei ministeri dell'interno e della salute che vieta di uscire dal comune nel quale ci si trova. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, segnaliamo che in via dei Serragli sono ripresi i lavori di riqualificazione di sottoservizi e carreggiata nell'ultimo tratto. Sono in vigore di vieti di sosta e di transito a fasi da via di Serumido a Piazza della Calza. Muoversi in Toscana Infi è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Antropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!